Ancora due mesi di attesa per le telecamere da posizionare nel quartiere degli incendi, lo fanno sapere da Palazzo San Francesco a seguire degli incontri tenuti nelle scorse settimane con il comitato di quartiere. L'installazione della videosorveglianza nell'area monitorata recentemente dalle forze dell'ordine dopo gli ultimi fenomeni balzati alle cronache è prevista per gennaio 2023 con i fondi allocati nel nuovo bilancio. Insomma il conto alla rovescia dei residenti è destinato ad allungarsi nel frattempo dal comune con apposita determina dirigenziale hanno provvenuto ad affidare lavori da 2300 euro per la riparazione della recinzione di Velta lo scorso 22 febbraio da un'auto che dopo essere uscita fuori strada finì nel cortile di un'abitazione di via Avezzano. Sette mesi ci sono voluti prima di incaricare una ditta per il ripristino di quel tratto di strada assai pericoloso per le auto che sfrecciano e rischiano serie conseguenze sul piano della viabilità e dell'incolumità personale. Un esposto era stato depositato recentemente dai residenti di via Avezzano. Nell'ultimo periodo il comune ha provvenuto a rifacimento della segnaletica verticale come richiesto dal comitato che consegnò una lunga petizione. Il grosso ovviamente è ancora da fare. Grazie.